7 anni fa, 24 agosto del 2016, la scossa che ha devastato il centro Italia, 299 morti, 400 feriti, 41.000 sfollati e altre 4 persone che poi sono morte per via indiretta nei mesi successivi. Un bilancio pesante. Per non dimenticare, oggi noi ci colleghiamo con Amatrice, c'è la nostra Maria Elena Fabi, in compagnia del sindaco Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice. Sindaco, è una giornata di dolore, speranza o rassegnazione? Le domande che le fa, Sberio. Siete collegati, siete in diretta, Maria Elena Fabi è il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. I microfoni sono aperti, mi sentite? Vediamo uno dei tanti cancelli che in qualche modo delimitano le aree di Amatrice, dove la ricostruzione ha tardato molto in questi anni ed è un bilancio molto pesante, molto pesante, anche perché poi quel poco che è stato ricostruito non vive bene per mancanza di tessuto sociale, che è quello che poi, come dire, in qualche modo costruisce la città, che fa di una città una città viva, una città con l'anima. Io vorrei sapere se c'è il collegamento, se è attivo o se non è attivo, il collegamento con Amatrice. Colleghiamoci con Francesca Olini, Associazione Arquata Potest. Allora, che cos'è questa associazione? Ricordo, Arquata del Tronto, provincia di Ascoli Piciano, è proprio lì che c'è stato lì vicino l'epicentro. Francesca, che cosa rappresenta la vostra associazione per Arquata del Tronto? Intanto buongiorno a tutti. Come raccontavi benissimo tu, questa giornata per noi è carica di significato. Ormai da sette anni, purtroppo si dice sempre, si fa una divisione spazio-temporale tra prima del terremoto e dopo il terremoto, quindi ogni volta che 24 agosto, come ogni giorno, il ricordo è sempre forte. Noi, come associazione, nasciamo anche prima del terremoto, proprio per riportare in queste aree, da Amatrice, Accumoli, Arquata, aree prettamente interne, dove, come dicevi tu, il tessuto sociale insieme ai servizi è chiaramente carente. Quindi per riportare un po' di attività qui su abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo in questi anni e in particolare attraverso quella che è stata l'opera di recupero dei sentieri che abbiamo voluto portare avanti, sia prima del terremoto, ma con ancora più forza e vigore dopo questa data. E la risposta qual è stata? La risposta, devo dire, è stata molto positiva sia a livello locale sia a livello esterno, per cui sappiamo di tante persone che vengono qui sul luogo per la particolarità di questi luoghi, perché l'Arquata, l'unico comune d'Europa tra due parchi nazionali, ha un potenziale in questo senso, ma ora, purtroppo, tra l'altro c'è questa sorta di Giano Bifronte, della bellezza naturale che ci circonda, ha l'immagine della distruzione, purtroppo. E questo è per noi un messaggio importante, perché vogliamo tenere alta l'attenzione su questi luoghi, sia per la loro potenzialità, ma sia per l'importanza di farli tornare a vivere. Le radici, la memoria, la tradizione. Ci dobbiamo salutare, Francesca, grazie di cuore. A che punto è la ricostruzione? La ricostruzione, come dicevi benissimo tu, ha tardato molto a partire. Adesso è avviata, diciamo, per quanto riguarda la parte privata, ma come ad esempio ad Arquata, sette frazioni sono perimetrate. Questo vuol dire che deve partire tutto un ITER fortemente, diciamo, burocratizzato, possiamo dire, in cui la ricostruzione è ancora lontana. Diventa una corsa ad ostacoli, certo. Speriamo che non ci siano nuovi, diciamo, problemi, ecco. Speriamo, grazie Francesca. È una corsa a ostacoli, verrebbe da dire contro il tempo, ma ormai sono passati sette anni, quindi, voglio dire, il tempo ce n'è stato, ma non deve essere facile. Allora, torniamo ad Amatrice. C'è il collegamento? Sì, vedo Mariana Fabi con il sindaco Giorgio Cortellesi. Dicevo prima, pochi istanti fa, sindaco, una giornata di dolore, una giornata di rassegnazione o una giornata di speranza? Ma, diciamo la terza, una giornata di speranza, anche se c'è una ferita aperta che non si rimarginerà mai, perché quei momenti non si dimenticano e facciamo fatica a tornare a una normalità. Sono passati sette anni e forse questo è il momento più difficile, perché si è passati dalla speranza di rivedere tutto in breve tempo a una realtà che fa fatica a tornare. Ci vorranno ancora vari anni per rivedere la nostra cittadina e per ritornare a una normalità vera. Allora, sindaco, lei ci sta portando e ci porterà all'interno del centro storico. Come sta ricordando la città le vittime del terremoto in queste ore? È un ricordo che si rinnova anno per anno e, come dicevo prima, è una ferita aperta. C'è stata una commemorazione ieri sera con una fiaccolata che è passata all'interno del centro di Amatrice. Ancora è un dolore forte per me soprattutto. Entriamo nel concreto. La nostra amica da Arquato del Tronto parlava di ricostruzione molto difficile, di una sorta di percorso ad ostacoli. Quali sono i principali ostacoli contro i quali voi state lottando? Ma in questo momento siamo passati dagli ostacoli causati dai professionisti che erano lenti nelle progettazioni perché forse vanno preso troppi incarichi. Adesso c'è bisogno di maestranze che abbiano veramente voglia di lavorare. Abbiamo vari cantieri pubblici fermi perché le ditte prendono l'incarico, poi cominciano a fare riserve, risolvono il contratto e varie appaltate a nuove ditte. Questo fa sì che i lavori siano lentissimi. Abbiamo un esempio plateale che è l'Istituto Alberghiero che a settembre verrà appaltato e rinizieranno i lavori per la terza volta alla terza ditta. E quindi come pensate di combattere questo fenomeno? Nel frattempo, per capire, quanto è stato fatto di quello che era nel ruolino di programma? Diciamo che siamo arrivati nella ricostruzione privata a un 30% del ricostruito, non qui nel centro storico e facciamo fatica a farlo partire per vari motivi logistici, di canterizzazione, di interventi forse non proprio indicate all'inizio che hanno un po' rallentato. Poi il fermo più grande c'è stato a causa degli incentivi fiscali che ha spostato le maestranze e ha aumentato tantissimo il costo dei materiali e oltre alla guerra che ci ha messo del suo per l'aumento delle materie prime. Seri ha settato tutto l'anno scorso, aumentando il contributo, accumulando il contributo al 110, al bonus fiscale. Adesso, quest'anno, sono partiti tantissimi cantieri. In questo comune ci sono 570 cantieri attivi in questo momento. Sperando che poi possano essere portati a Dama. Sindaco, ci dobbiamo salutare. Lei, non so a che punto è del suo mandato, a metà, è il primo mandato? Sono al secondo anno, no, no. È al secondo anno. Come vede il futuro e cosa vuol dire ai suoi concittadini e anche ai tanti che avevano una seconda casa da matrice? Ma di credere nella ricostruzione e di stimolare ditte tecnici a presentare i progetti e a cercare professionisti e maestranze serie che hanno veramente la voglia e la volontà e la capacità di portare a termine i cantiere. Ma verrà ricostruita una matrice come era oppure diversa? No, verrà ricostruita una matrice autentica ma non identica. Sarà una città che riprenderà le forme della vecchia matrice ma sarà moderna, interconnessa, funzionale. E quindi sarà una matrice forse migliore. Ce lo auguriamo, niente potrà più essere come prima, però l'importante è che tutto quanto riparta ad Amatrice, a Cumuli e a tutte quante le città al quadro del Tronto che sono state interessate da questo sisma che ha devastato il centro Italia. Grazie, un abbraccio forte a lei e a tutti quanti i suoi conciliari, grazie a Maria Elena Fabi.